La pandemia da Covid-19 ha cambiato anche il mercato immobiliare. In tanti hanno rivalutato il valore dello spazio e sempre più persone richiedono case con giardino o grandi balconi. Un settore, quello del mondo immobiliare, è tutt'altro che in sofferenza. Gli affitti a Pesaro nell'ultimo anno sono andati a ruba e la domanda ha superato l'offerta. Bene anche le vendite non solo nella zona mare in centro storico ma anche nelle zone più periferiche della città. Con la pandemia le persone si sono anche rese conto di qual è il valore della casa perché le persone si sono trovate a vivere molto di più la casa, le mura domestiche e quindi se prima si usava quasi la casa per dormire e si stava tutto il giorno fuori adesso c'è di nuovo un grande valore per l'immobile, per la prima casa. Quindi sia il discorso vendite che il discorso affitto va sicuramente benissimo, le richieste sono tante e anche nelle vendite abbiamo visto anche proprio questo cambio, anche la ricerca della casa anche leggermente più fuori dal centro ma con un po' di spazio esterno, proprio cercare la tranquillità per potersela godere di più. Questa è una priorità che è venuta fuori assolutamente con la pandemia. Il mercato immobiliare in realtà non è mai cambiato e non si è fermato neanche durante il periodo della pandemia. Nel mercato degli investimenti sta scendendo, quindi la borsa e gli investimenti a lungo periodo non danno molti risultati e quindi i clienti si riversano sempre di più sul mercato immobiliare. Teniamo conto che la maggior parte delle vendite e degli interessamenti sono nell'ordine dei 150 mila euro. In ogni caso le previsioni sono ottimistiche. Tutti pretendono con questa storia di stare dentro casa, di avere uno sfogo, o un balcone praticabile, non il solito balcone piccolo, o un giardino. È vero che in questo momento gli affitti a Pesaro stanno andando a ruba, cioè non ce ne sono più di fatto? No, non ce ne sono più perché quei pochi che ci sono li fanno direttamente, perciò non passano nelle agenzie. Però non ci sono appartamenti da affittare, a meno che ci sono, ma quelli che a cannone concordato vengono oltre 700 euro al mese ed è difficile affittare.